Benafro in compagnia di Don Salvatore che è una vecchia conoscenza. E quest'oggi stiamo qui per l'inaugurazione di questa panchina rossa con il consultorio. Questo è l'ultimo evento, l'ultima cosa che si è organizzata ma il programma è abbastanza nutrito. Sì, come consultorio sento io il presidente dell'associazione Il Girasole. È una realtà che sul territorio della diocesi presta servizio da circa 17 anni. È una realtà che possiamo chiudere anche proprio ieri parlando con la segreteria. Vedendo gli accessi che ci sono stati quest'anno siamo arrivati già solo quest'anno a 700 accessi. Sono accessi di varie nature, dalla consultazione legale a quella psicologica, a quella pedagogica, a quella ginecologica e soprattutto anche per quanto riguarda la mediazione familiare. Come dicevo chiudiamo quest'anno con la festa domani di Cristo re dell'universo dicendo che effettivamente ha regnato ha regnato questo l'uomo che dice all'uomo chi è l'uomo, il Cristo re dell'universo. Don Salvatore, il Molise è una piccola regione. Venafro è una piccola ma grande realtà, ma a livello sociale diciamo, come prete, qual è la realtà di Venafro? La realtà di Venafro a livello sociale è stato un paese che ha trovato uomini e donne che hanno voluto fare cultura. Fare cultura significa saper guardare dove c'è uno spazio e riempire quello spazio che ha bisogno di poter andare avanti perché questa è la cultura. Non proporre ma vedere dove c'è un vuoto e riempirlo così da permettere un lavoro in sinergia. Un'ultima domanda, quello che è successo ultimamente con l'ultimo, io dico, omicidio di Giulia. Si sta parlando molto di questa educazione nelle scuole al sentimento. Io personalmente ho un'altra visione del problema, ma leggevo un editoriale su un quotidiano nazionale che mi ha aperto un po' la mente, ma anziché educare al sentimento, che quello dovrebbe nascere con l'esempio, non con una scuola. Forse tutti questi problemi non nascono perché ci siamo allontanati da Dio? Ecco, non è che ci siamo allontanati da Dio, ci siamo allontanati da quella che è la cultura dell'uomo. L'uomo Jean-Paul Sartre osava dire che quando viene un uomo al mondo viene l'inferno. Invece l'uomo di Nazareth ci dice che è la possibilità nostra di essere in relazione con gli altri. Noi nasciamo con questa relazione, uomo-donna. Adamo disse finalmente, vedo me stesso in questa donna. Ed è con questo messaggio che allora vogliamo salutarci ed invitare tutti ad amarci come creature della... Della partecipazione di una relazione. Io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. Io ho bisogno del tuo abbraccio, tu hai bisogno del mio abbraccio. Tu hai bisogno della mia bocca, io ho bisogno della tua bocca. Io ho bisogno della tua corporeità perché nella misura in cui questa corporeità fa nascere il già una relazione che noi poi portiamo già dentro di noi il per sempre. Grazie. Prego. Stiamo a Venafro in compagnia della dottoressa, direttore del consultorio familiare Il Girasule. Quest'oggi, si commemora questa giornata internazionale della violenza contro le donne, ci sarà l'inaugurazione di questa panchina rossa. Sì, anche noi avremo questa panchina rossa, la panchina rossa che è un simbolo di dolore e deve essere invece collocata soprattutto in questo luogo un simbolo di speranza e di rinascita per tutte le donne che devono essere incoraggiate a denunciare la violenza subita, il maltrattamento. Il femminicidio ormai è un fenomeno agghiacciante perché le cronache, quelle degli ultimi giorni ma degli ultimi mesi e oserei dire anche degli ultimi anni, danno dei dati allucinanti. A tutt'oggi, nel 2023, sono morte 107 donne di cui 87 sono state uccise nell'ambito familiare, domestico e 55 di questi casi sono stati perpetrati ad opera del partner o dell'ex partner. Questo è un dato molto allarmante perché significa che la donna è minacciata soprattutto all'interno delle mura domestiche dove invece dovrebbe essere al sicuro e dovrebbe essere ben tutelata. Quindi non è più tutelata tra le mura domestiche rispetto alla strada quando viene maltrattata, violentata o uccisa ad opera di soggetti a lei sconosciuti. Il consultorio familiare Il Girasole opera da 17 anni, è una struttura diocesana che opera dal 2007 ed è stata voluta dai vescovi diocesani. Monsignor Dini all'inizio, Monsignor Visco e da Monsignor Camillo Cibotti che l'hanno sostenuto e lo sostengono. L'unico sostentamento del consultorio è il fondo dell'otto per mille della Chiesa Cattolica e il consultorio in realtà con un lavoro di volontariato puro è sempre vicino alla famiglia, alle donne, alle fasce deboli, agli adolescenti e alle donne immigrate soprattutto. In realtà fa un accompagnamento nel percorso della vita della donna in tutte le fasi della vita, dall'adolescenza al percorso nascita fino alla menopausa e con l'operatore la donna stabilisce sempre un rapporto di fiducia e di incoraggiamento. Pertanto il rapporto di fiducia è imprescindibile in ogni percorso di promozione alla salute e anche nella fase di informazione per quanto riguarda soprattutto i casi di violenza. Naturalmente il consultorio familiare Il Girasole non è che ha solo un aspetto e un compito di prestazione prettamente professionale, di consulenza ma anche ha un compito di prevenzione e questo soprattutto nell'ambito educativo perché educare soprattutto la fascia giovanile al rispetto della relazione con l'altro al rispetto della propria corporeità e di quella dell'altra persona che si ama o che si crede di amare è fondamentale. Naturalmente va insegnato che l'amore non è esclusivo possesso. Pertanto gli operatori del consultorio in questa loro opera sia di consulenza che di prevenzione educativa lavorano molto in sinergia con le istituzioni ma soprattutto in sinergia con la famiglia perché è il primo agente educativo sul territorio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.